Già leader del mercato europeo Consoe, il veicolo elettrico più venduto in Europa, Renault desidera imprimere un'ulteriore accelerazione e plasmare il futuro. Per il pioniere della mobilità elettrica, sviluppare i veicoli elettrici non significa solo progettare nuove automobili, ma anche promuovere un'ampia gamma di servizi per creare attorno ad esse un ecosistema sostenibile. Ad ottobre il gruppo della Losanga ha annunciato la creazione di una filiale, Renault Energy Services. Dotata di uno spirito da start-up, essa nasce per investire in progetti nel settore delle reti elettriche intelligenti, dette Smart Grid, creando rapporti preferenziali con i diversi player dell'energia. Renault Energy Services si focalizzerà essenzialmente sullo sviluppo di progetti di ricarica intelligente, lo Smart Charging, le interazioni tra veicolo e rete elettrica, il Vehicle to Grid, e progetti relativi alla seconda vita delle batterie. Connessi alle Smart Grid, i veicoli elettrici Renault favoriscono la disponibilità di un'energia meno inquinante e meno costosa. Anche dopo la sua vita automobilistica, la batteria del veicolo elettrico conserva un'importante capacità di stoccaggio. Con questa seconda vita delle batterie, Renault è oggi in grado di offrire una risposta a tutta la gamma di esigenze di stoccaggio di energia, dalla casa unifamiliare agli edifici ad uso ufficio, professionali o accademici, passando per le abitazioni o anche i punti di ricarica di veicoli elettrici. Un esempio? Renault e la britannica Power Vault hanno da poco lanciato un sistema domestico di stoccaggio dell'energia, basato sulla seconda vita delle batterie elettriche. Power Vault ha lanciato un test con 50 unità, costituite da batterie fornite da Renault, che avranno una seconda vita in abitazioni di clienti già equipaggiate con pannelli solari. Le unità Power Vault possono anche caricarsi automaticamente con un'energia a costo ridotto al di fuori delle ore di punta. Le batterie utilizzate nei veicoli elettrici, con una vita compresa tra 8 e 10 anni, guadagnano così una vita supplementare prima del riciclaggio, stimata tra 5 e 10 anni. Altro esempio? E-Store, l'innovativa tecnologia di stoccaggio dell'energia, sviluppata dalla britannica Connected Energy, che utilizza batterie di seconda vita dei veicoli elettrici Renault. Connected Energy e Renault hanno installato due colonine di ricarica rapida, equipaggiate con questa tecnologia, di cui beneficeranno per primi gli utenti delle autostrade belghe e tedesche. L'Olanda è uno dei paesi all'avanguardia in tema di mobilità sostenibile. Non è un caso che Renault abbia firmato nel 2016 una lettera di intenti con i suoi partner economici olandesi, tra cui la città di Utrecht, per sviluppare soluzioni di ricarica solare per veicoli elettrici. Nella prima fase del progetto sono stati installati mille caricatori solari intelligenti alimentati dai 10.000 pannelli fotovoltaici della regione di Utrecht e parallelamente per i residenti della regione è stato creato un servizio di car sharing elettrico con una flotta di 150 zoe alimentate da questa energia rinnovabile locale. La seconda fase del progetto prevede lo sviluppo dell'ecosistema Vehicle to Grid. La rete di caricatori solari ricarica il veicolo elettrico e lo scarica in funzione dei picchi di consumo, gettando le basi per un nuovo sistema di stoccaggio di energia da fonte rinnovabile. Utrecht promuove così una vita sana in ambito urbano per continuare ad affermare la sua leadership come regione più competitiva dell'Unione Europea, ma anche per ispirare altre regioni. E per rimanere nella terra dei mulini a vento, il gruppo Renault ha recentemente annunciato l'acquisizione del 25% di Jedlix, start-up olandese specializzata nella ricarica intelligente dei veicoli elettrici. Il primo step della partnership ZE Smart Charge, una nuova app per smartphone che ottimizza la gestione delle ricariche del veicolo per sfruttare il più possibili le fonti di energia rinnovabile al minor prezzo. L'utente indica il livello di ricarica di cui ha bisogno e l'ora in cui deve utilizzare l'auto e dopo aver garantito la ricarica minima richiesta dall'utente, l'app gestisce il resto della ricarica in modalità Smart Charging. ZE Smart Charge sarà disponibile nei Paesi Bassi entro fine anno e nel corso del 2018 in altri Paesi Europei. Tutti questi sono solo alcuni esempi che illustrano l'ambizione di Renault per la mobilità del futuro e diventare protagonisti dell'ecosistema dei veicoli elettrici.